Fino a luglio scorso il 39enne salernitano Alfonso Liguori era direttore di un megastore di Avellino. Sua moglie Gina Potente, 37 anni, era dipendente dello stesso megastore a Salerno. La crisi ha fatto loro perdere il lavoro. Percepiscono l'assegno di cassa integrazione in deroga, ma è un'entrata di molto inferiore ai loro stipendi e non viene erogata mensilmente. Ed inoltre i Liguori hanno tre gemelli di quattro anni ed un bimbo di due. Hanno dovuto dunque inventare un vero e proprio metodo per riuscire a mantenere più o meno lo stesso tenore di vita di quando in casa c'erano due stipendi. La coppia ha dunque deciso di mettersi a caccia di offerte e buoni sconto per far fronte a tutte le esigenze della famiglia. Buoni benzina, biglietti gratis del cinema, detersivi in prova e sondaggi sui prodotti. Internet è una rete, basta saper pescare per aggiudicarsi gratis o quasi tante opportunità. Da quando ha perso il lavoro, ha detto Gina Potente, è oramai diventata una routine andare su internet e cercare le migliori offerte. Nel frattempo il marito, Alfonso, gira per i supermercati per verificare le varie pubblicazioni dove si trovano le offerte dei prodotti. Alfonso e Gina hanno deciso di condividere i loro sistemi su Facebook per aiutare tutte le famiglie che subiscono i disagi della crisi. Sulla pagina, 50 centesimi è buono ma gratis è meglio, raccontano la loro esperienza e diffondono le offerte. Anche se dovessi trovare un lavoro, racconta Gina, non credo che abbandonerò questa ricerca. Si risparmia davvero tantissimo nell'abbigliamento, nei prodotti alimentari e per la casa. Tutto sta ad applicarsi anche di notte, solo per un buono da 20 euro di benzina o un coupon per l'acquisto dell'abbigliamento per i bambini. Per la coppia di Salerno la ricerca di offerte è diventata una sorta di lavoro. Ritengo che sia davvero un lavoro. In Italia questa è una novità, in America, ha detto Gina, è più semplice e le industrie lo fanno da tempo. Lì pubblicano addirittura sui giornali buoni sconto, ma ci sono anche aziende europee che fanno testare i loro prodotti, dai dentifrici ad altri generi per la casa.